Va bene, facciamo così che provo anche questa. Io ho questa situazione da mesi dove c'è questo ragazzo, siamo stati insieme frequentati per sette mesi, però lui ogni tre per due mi scappa, ma scappa nel senso che sparisce di punto in bianco e poi ritorna. E lei riapre quella porta. Una di noi, la Miriam dalla provincia di Parma, ciao. Ciao ragazzi. Ciao tesoro. Allora sono un attimo emozionata, sto facendo una figura di perdatroce. Ma va, perché? È la storia di mille persone all'ascolto. Ha voglia anche di mille persone presenti in questo studio. È presa larga, ma guarda, è un grande classico. C'è di peggio, c'è che non torna. Quella roba là. Ma guarda, ma sarebbe anche quasi meglio in questo momento, nel senso che prendi una decisione. No, più che altro, almeno qualcuno dei due la prenda, perché tu mi sembra evidente che nemmeno... No, ma ragazzi, questo è il problema. Io sono una persona assolutamente decisa, cioè una volta che io prendo la mia decisione è quella, appunto. Infatti si è visto. Esatto, appunto. E lui però torna, ma scusami, quando dici sparisce? Sparisce nel senso che non risponde più al telefono, che non si può più trovare. Di punto in bianco o a seguito magari di discussioni? No, no, no. E quando torna, come torna? Ruffianissimo in tutta la tua bellezza. È quello che ti fai. Ma quando se ne va, secondo te, torna da una moglie? Eh no, è questa la questione, ragazzi. Noi ci siamo conosciuti quattro anni fa in cui, diciamo, io ero un po' la sua responsabile, nel senso che io lavoravo in un'altra filiale e lui più lontano. E lì ci siamo conosciuti, lì era sposato, che io avevo anche io le mie relazioni. Quest'anno usciamo entrambi da queste relazioni e ricominciamo a vederci, a frequentarci. Ok. Tutto meraviglioso, tutto bellissimo, finché, sì, a seguito di discussioni sparisce. Ah, ecco, ci sono delle discussioni. Però anche a seguito di non discussioni, ma di proprie pare, dei propri problemi mentali, del buco, e sparisce. Quando torna, però, ti chiedeva la Vale, come torna? Cioè, ti manda dei messaggi, si presenta dove lavori? Allora, sì, si manda dei messaggi, questa mattina si è presentato dove lavoro, il suo splendore, ma dopo settimane che non ci sentivamo, se non qualche messaggio qua e là. Settimane è tanto, eh? Eh sì, sì, sì. Qualche messaggio qua e là, scusami la domanda. Lui li manda a te ogni tanto, ok, ma quando tu li mandi, lui risponde? No. Ahia. E oggi si è presentato sotto l'ufficio tuo e? Eh, ok, ho capito, ok. Eh, no, ma in realtà adesso anche li ho scritto e adesso anche non mi risponde più. Certo, come sempre però, perciò. Palle. Però, ragazzi, io vedo che hai preso, certo. Ma cosa capisci? Non sentire da sola. Tu non vedi, non senti, tu niente, amore, niente. Tu? Eh, eh, sì. Eh, no, non vedere, non vedo niente perché è stato tra l'altro messaggio. Eh, appunto, ma poi preso da cosa? Cioè, uno che dice, può avere dei dubbi, può avere, però verbalizza. Cioè, una persona che vale la pena di essere frequentata dice, guarda, ho questa paranoia, che sia poi giusta o sbagliata, ma che la verbalizza, non che sparisce, perché vuol dire che non è uno in grado di avere a che fare con la propria emotività, con le proprie, anche eventuali paturnie, cioè, è uno che è così, o così lo tieni e quando capita, visto che è straordinario, te lo godi e poi però non ci fa raffidamento. Eh, era quello, cioè... Quell'incapponimento lì è proprio una grandissima, immensa, gigantesca perdita di tempo, Miriam. Cioè, qua, vabbè, naturalmente tutto il pubblico di Pinocchio ti dice, sparisci. Sì. Perché lui, come alla serie, non c'è più... Hai la prova, ti chiedono, che lui sia uscito effettivamente dalla sua situazione? Sì, 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 cioè, per quello sì, però... Il mio sospetto, sinceramente, proprio a dirla tutta, è che sia uscito da una situazione rigida, per avere un pa, una o due Miriam, che comunque, insomma, ti baloccano abbastanza e non ti chiedono nessuna situazione, per cui, cioè, ha ragione Pini. Vogliamo provare a mettere anche da un altro punto di vista, fondamentalmente io in questo momento questo tipo di relazione mi fa malissimo, io ne sono consapevole. È possibile che sia io stessa, a questo punto, a non riuscire a bloccare questa situazione? Sì, cioè, l'unico modo che hai è quello di renderti conto che ti meriti una presenza che sia più presente. Magari, ecco, se invece sei una più, come potrei dire, che non ha bisogno di una relazione per essere serena, però non mi sembra che... Però non sarebbe, non sareste qua a chiamare, perché ti basterebbe quello che ti dà. Ecco, quello, capito? Perché è quello che ti dà, è... Perché questo è uno che ogni tanto arriva, mi piace, mi faccio un giro in giostra e poi arrivederci. No, tu da questa roba ti incaponisci per addomesticare uno che, cioè, veramente non ha... Io la trovo una roba che è una perdita di tempo, Miriam, però poi so benissimo che non è facile rinunciare, perché una parte di te si sente realizzata solo nel momento in cui questo cade ai tuoi piedi. Ma è una cazzata. No, io quello che non riesco a spiegarmi, personalmente, è l'effetto che fa tu di me e io continuo a sperare. Beh, sarà buonissimo, abbiamo capito. Sarà... Eh? Sarà bravo. Eh, è bravo e buono. Ma... Cioè, neanche da quel punto di vista... Eh, ma io lo sapevo, lo sapevo, guarda, ti posso... Guarda, te lo sapevo. Guarda, Miriam... No, nel senso, bravo, tutto quello che vuoi, ma non è eccezionale, capito? Certo. Cioè, in realtà è proprio l'emozione che... E infatti è un incapponimento tuo, ti devi dare quattro pizze da sola e girarti dall'altra parte. Questo è il nostro consiglio. Ci fai sapere per piacere nei prossimi tempi? Certo. Ok, intanto però un abbraccio forte. Un abbraccio per venerdì, quindi... Ecco, ok, perfetto. Tanto non risponde. Comunque, ti dai quattro schiaffoni, per favore? Lo faccio subito, ragazzi. Gritto e rovescio. Un bacio. Ciao. Un bacione, grazie mille. Ciao.